I forni si erano riaccesi solamente tre mesi fa ed adesso la IWV è costretta a sospendere nuovamente la produzione, ancora una volta a causa del prezzo del metano ormai fuori controllo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Industria Vietraria di San Giovanni Valdarno nei prossimi giorni, salvo sorprese dell'ultima ora, delibererà lo SOP agli impianti a partire da metà settembre fino almeno al 31 dicembre. Una situazione paradossale se si pensa che gli ordinativi sono in crescita del 35% rispetto al 2021, ma le bollette ormai triplicate non lasciano grossi margini di manovra. L'azienda lo scorso febbraio aveva già spento i forni, sempre a causa degli esorbitanti costi energetici che avevano reso insostenibile l'attività aziendale. Era così scattata la cassa integrazione per tutti i dipendenti. L'azienda anche adesso sta già lavorando sul fronte degli ammortizzatori sociali.